Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui con una specialità australiana, ovvero una bella bistecca di canguro. Io premetto che non sono una grande cuoca, quindi non so cosa uscirà, ma ci spostiamo adesso ai fornelli e speriamo di cuocerla bene. Grazie a tutti. Ok, eccoci qua pronti, andiamo a tagliare per vedere come è la cottura. Ok, io non so come sia possibile, ma quando faccio i video le cotture mi vengono abbastanza buone. Allora, come avete potuto vedere si tratta quella di canguro a carne rossa, ha un profumo molto forte in realtà e adesso ovviamente assaggiamo. anche il sapore è molto forte, non saprei descriverlo, forse sembra un po' per chi l'ha assaggiata la carne di struzzo che si trova in Italia, se la cercate la potete trovare, a differenza della carne di canguro, è buona. Fa un po' senso purtroppo mangiare, dire, mangio carne di canguro, però spero che i vegani non si attacchino molto a questa cosa e che non arrivino gli haters sotto questo video, dire no, non bisogna mangiare la carne di canguro. Io l'ho voluta provare, non penso che la ricomprerò perché comunque ha un costo piuttosto elevato, in ogni caso è buona. Se volete, se passate dall'Australia, provatela. Il video finisce qua, mettete un like e commentate scrivendo se per i prossimi video volete che io compri le salsicce di coccodrillo oppure gli hamburger di cammello che ho visto che si trovano al supermercato. Iscrivetevi al canale e vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social in cui potrete appunto interagire con me, in particolare vi ricordo Facebook e Instagram sono i due che uso di più. Ciao!